Ha scritto canzoni indimenticabili come Believe ma anche come Just Like Jessie James. È una voce potente, anche un'attrice, insomma un personaggio a tutto tondo. Si tratta di Cher che non smette di far parlare di sé, neppure oggi che di anni ne ha, 77, essendo nata nel 1946. Lo ha fatto anche di recente per un'accusa pesante che le è arrivata, quella di aver assoldato quattro uomini per rapire il figlio allo scopo di impedirgli di riconciliarsi con l'ex moglie. La rivelazione era emersa dai documenti legali relativi al divorzio di Elia Blue Alman, figlio appunto di Cher e di Greg Alman. Dopo aver chiesto il divorzio dalla moglie Mary Angela King nel 2021, infatti i due si erano riavvicinati a novembre del 2022, anche se solo per 12 giorni. E sarebbe stato in quell'asso di tempo che quattro uomini sarebbero entrati nella loro stanza d'hotel a New York, rapendo appunto Alman. Era il 30 novembre, il giorno del loro anniversario di matrimonio. Non so come stia né dove si trovi mio marito, sono molto preoccupata, scriveva King nella dichiarazione datata 4 dicembre del 2022. E ancora mi è stato detto da uno dei quattro uomini che lo hanno preso che erano stati assoldati dalla madre appunto di Alman. A King non sarebbe stato consentito di vedere o parlare col marito che ora si trova in una casa di cura, ma non mi è stato detto quale, mi è stato riferito che non può usare il telefono. Così appunto la donna che sarebbe stata invitata a lasciare la casa della coppia che è di proprietà di Cher. Lo ha riportato Entertainment Weekly, lo ha fatto credendo che gli assegni di mantenimento sarebbero arrivati puntualmente e che sarei stata in grado di permettermi un alloggio, appunto ha dichiarato ancora King nei documenti del tribunale. Non mi è stato permesso di recuperare tutti i miei effetti ed effetti personali. Non mi è stata data la possibilità di fare un inventario dei nostri beni. Alman ha parlato apertamente della sua dipendenza dalle droghe in passato, di cui ha cominciato a fare uso fin da adolescente. Dopo il presunto rapimento ha vissuto per un certo periodo allo Chateau Marmont di Los Angeles sotto la supervisione di una persona assunta dalla madre, come riporta il Daily Mail. E all'inizio di questo autunno il personale dell'hotel lo ha trovato disteso a faccia in giù su marciapiede che porta all'ingresso con le braccia lungo i fianchi. Due giorni dopo la polizia lo avrebbe portato in un centro di riabilitazione. Insomma, fin qui la cronaca relativamente recente, ma torniamo adesso alle canzoni di Cera, in particolare a quella accennata in apertura, cioè la nostra colonna sonora e sigla finale di questo spazio, cioè Just Like Jesse James. È un brano contenuto nell'album Earth of Stone del 1989, scritto da Desmond Child e Diane Warren, è il terzo singolo negli Stati Uniti e il secondo in Europa estratto proprio da quel disco. Nei testi di questa ballata, dai toni country rock, la protagonista affronteggia un uomo che si crede un bandito del Far West, uno che viene definito come ragazzo di provincia con un'attitudine da metropoli, sostenendo che finirà per fallire clamorosamente cedendole il suo cuore proprio come il bandito Jesse James. Gary Hill di All Music notò come la canzone si discostasse dalle altre tracce dell'album e la definì una ballata che funziona. In ogni caso raggiunse l'ottava posizione nella classifica Billboard Hot 100 a gennaio del 1990 e la nona posizione nella classifica Adult Contemporary Chart. Pubblicato nel dicembre dell'89 nel Regno Unito, dopo tre mesi il singolo raggiunse l'undicesima posizione della official singles chart. C'era dichiarato che durante i concerti non le è mai importato molto della canzone per via delle molte parti cantate, però ha riconosciuto che molti dei suoi fan citano questo brano come uno dei loro preferiti. E allora ascoltiamolo insieme!